Buongiorno signora, devo stare arrivando subito per farvi tutto. Ma il dottore com'è? Che penso? Una brava persona. Una persona per bene. Non posso sapere bene. Sentirò male? Sentirò? Sentirò male? No, assolutamente. Sono cose che si fanno regolarmente, insomma. Brava, bisogna rassicurare il paziente. Una frase classica che bisogna dire è lei in buone mani. Beh, lei in buone mani. Non so perché la consigliano quelli che studiano psicologia. Ma qua è tutto sterilizzato? Sì. Noi ogni volta puliamo il riunito, risistemiamo tutto, quindi su quello stia tranquilla signora che... Eh, a questo punto la bustina, vede? Questa bustina è chiusa vuol dire? Vede, questa bustina è chiusa, quindi sterilizzata totalmente, l'abbiamo messo in autoclave. Brava, spiega. Quindi ad altissime temperature, quindi proprio... 5 miliardi. Grazie.